Sono arrivati questa mattina i bambini dall'Ucraina a Montesilvano e ad attenderli una Befana davvero particolare già dal nome, il Falco. Mario Ferri, montesilvanese doc conosciuto per le sue invasioni nei vari campi di calcio nel mondo, con l'obiettivo sempre lo stesso, portare un messaggio, oggi regala giocattoli ai piccoli profughi che sono qui, grazie a lui e grazie anche al centro commerciale Portoallegro. Manca la maglietta di Superman che conosciamo ormai tutti, non solo in Italia ma in tutto il mondo, ma come hai fatto a eludere i controlli in Qatar? Maglietta di Superman manca perché l'hanno sequestrata in Qatar, forse da bambino ho visto troppe volte il film e provo a prendermi, allora quando vado a fare queste missioni riesco a eludere, come ho detto al presidente Infantino, guardie e ladri, un ladro contro 3.000 guardie, ho vinto io. In questo caso diciamo che sono stato molto scaltro a entrare, scavalcare la panchina e poi portare quei bei messaggi in campo che loro stavano un po' vietando. Due messaggi importanti, uno contro la guerra, uno per la difesa delle donne iraniane. Assolutamente sì, altro tema che mi sta a cuore è Ucraina e il rispetto delle donne in Iran, tutti stiamo vedendo cosa succede, chi si informa un po' di più capisce che lì sta succedendo proprio l'antivita, cioè donne non rispettate, libertà tolta a chiunque, a studenti e poi ho portato anche la bandiera, se ti ricordi, bandiera della pace che anche loro un po' LGBT, i diritti umani avevano vietato. Tu hai il calcio nel sangue, la partita più bella, una delle partite più belle, diciamolo pure, che la stai giocando oggi con questi bambini? Donare un sorriso a questi bimbi che appunto non vedono i papà da ormai un anno, è importantissimo accoglierli qui in Italia e regalargli un sorriso in questa giornata. Quel sorriso ti sembrerà quasi una vittoria ai mondiali? Anche di più, anche di più, perché sono, quei sorrisi sono cose che ti rimangono dentro, poi a prescindere dalla televisione, a prescindere dalla fama, Instagram, follower, quelle sono cose che ti rimangono dentro tutta la vita e sono fiero di queste cose. Piacevolmente pizzicato oggi da Rete8, ma tornerai nella trasmissione di Paola De Simone a Rete8 Matinè, parte di 10. Sì, 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 mi ha invitato e mi sono fatto catturare l'ennesima volta, vengo io da voi.